La cena pacificatrice per il centro-destra si è trasformata in un semplice caffè. Il tavolo organizzato per i tre leader Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni è rimasto vuoto fino alle 23.30 nella trattoria del Cavaliere nel pieno centro di Catania. Leggi anche. Berlusconi rassicura. Andiamo d'accordo. Giorgia Meloni è stata la prima ad arrivare poco dopo le 23, Berlusconi è arrivato alle 11.15, seguito una decina di minuti più tardi da Matteo Salvini. Al ristorante, per qualche ora, soltanto il candidato governatore della Sicilia Nello Musumeici, arrivato poco dopo Ignazio Larussa, a dimostrazione che i rapporti fra i tre leader non sono poi così distesi, come hanno rappresentato oggi le tre piazze separate di FD, Forza Italia e Lega. Le scintille si erano fatte sentire a distanza con le dichiarazioni di Berlusconi e Salvini, con quest'ultimo che ha rispedito al mittente le ipotesi sui ministri, e sul programma politico comune avanzate dal presidente degli Azzurri. L'ex Cavaliere si sarebbe intrattenuto più a lungo del previsto in hotelle. Arrivando, Meloni ha chiarito. Il centro-destra va ricostruito. Ci vediamo tutti insieme per il caffè, e da qui si riparte. Questo è il primo di una serie di appuntamenti.